Voglio parlare velocissimamente di una cosa che mi è successa ieri Allora, poi del caso Bigliardini Ma comunque sì, questi falsi amici, bugiardi Sai, quando ti organizzano queste Ti si avvicina a qualcuno che non vedevi da tanto tempo Ti fa delle domande molto circostanziate Questi bulletti da giardino Questi sono i bulletti da giardino Ti fanno queste domandine circostanziate Che vogliono sapere, sono gelosi, invidiosi La gente è, guarda, piuttosto cattiva Cioè, vuole sempre metterti in cattiva luce, no? Poi adesso sanno che è un canale Quindi io ho chiuso i rapporti praticamente con tu Ma non perché sono cattivo io La gente è gelosa, invidiosa Quanti soldi fai, capito? Allora mi è capitato di guardare questa persona Vuoi che non sappia che io ho il canale Cioè, ormai è diventata una cosa nazionale Non è una cosa che sapete solo voi Io, per esempio, ti faccio una domanda Ti faccio un esempio, un esempio Se qualcuno mi chiede un'informazione politica Io non rispondo Ma non è che non rispondo perché sono cattivo Non rispondo perché ho la mia privacy Cioè, me la tiro un pochino Cioè, con tutto il rispetto Però le mie informazioni hanno un peso Hanno un costo Cioè, non è che Non parlo più così in libertà Capito? Mi sono abbastanza isolato Ma perché È come se tu dici Cioè, incontri mentana per strada Incontri Un famoso giornalista Mi fai l'editoriale È un cursivo gratuito Non penso te lo faccia Capito? Allora, praticamente Il caso bigliardino Interessante È una grande storia Nel senso Prima c'è I monopoli Adesso È da ridere Hanno messo L'autocertificazione Però Tutto questo Poi provvederà Un'omologazione Cioè, io ho sentito Il presidente dei monopoli A me A me non convince Cioè, a parte che Perché devi omologare un bigliardino Tra l'altro C'era questa storia Che si voleva equiparare Il bigliardino È un gioco d'azzardo Boh Cioè, siamo al ridicolo Il bigliardino è Un simbolo dell'italianità nel mondo Il bigliardino è È il calcio da tavolo, no? E quindi mi sembra Una roba fuori di testa Cioè Un'omologazione Un'autocertificazione Ma di cosa? Ma di che ci sono dei bigliardini? Perché secondo me Vogliono rottamare I vecchi bigliardini E ci sarà Un bigliardino solo Che si potrà utilizzare Solamente quello Cioè, delle robe fuori di Che poi Non c'è una pericolosità Per i calcio Cioè, dici No Cos'è? Il gioco d'azzardo non mi risulta Posso far gioco d'azzardo anche Allora devi vietare le carte Cioè Allora devi omologare le carte Deve esserci un arbitro Quando gioca una carta nei bar Cioè Che cosa stiamo parlando? Ma ci rendiamo conto Che il paese è in ginocchio Pagliando il bigliardino Allora devi vietare le carte